Questione E78, Fabio Buschi, sindaco di San Giustino, la sua è una posizione totalmente differente rispetto a tutto quello che si è letto e si è scritto in questi giorni? Diciamo che per quanto riguarda il merito noi siamo aperti alla discussione, bisognerà ridiscutere, ma certamente non accetteremo nel modo più assoluto che una proposta di un privato vada al di là di tutti quegli interessi positivi che le amministrazioni hanno individuato rimettendo a disposizione il territorio, cercando una soluzione che in prospettiva sia la migliore da un punto di vista di minore impatto ambientale, ma che sia anche la più favorevole a un futuro sviluppo economico. Quindi abbiamo individuato una piastra logistica che sta per partire e non è che la superstrada E78 può prescindere dal passaggio sulla piastra logistica, perché altrimenti faremmo una cattedrale nel deserto e andremmo comunque sia a occupare territori che, ripeto, non erano prevesti da nessun accordo di tavolo istituzionale, lì c'era un accordo sottoscritto tra l'allora Presidente della Giunta regionale Lorenzetti, l'allora Sindaco di Città di Castello Cecchini, l'allora Sindaco di Citerna Serini e sottoscritto. Assieme ai dirigenti della Regione sono cambiati anche quelli, quindi sono rimasto solo io a discutere di questa roba e francamente senza presunzione, devo dire in maniera forte che forse l'unico che ci capisce qualcosa è il sottoscritto. Ripeto, senza presunzione, ma proprio per la conoscenza della problematica, oramai da 30 anni, per la conoscenza del territorio, essendoci vissuto, insomma, e credo che da parte di tutti debba esserci uno sforzo per capire veramente gli interessi del territorio, quindi deve essere fatta la superstrada, su questo siamo d'accordo, deve essere fatta dove impatta di meno e dove favoresce di più lo sviluppo economico. Andrea Lignani e Marchesiani l'accusa, tra virgolette, di guardare troppo ad interessi propri, al piccolo orticello. Sì, ho capito, però non ho capito perché è una comunità in virtù del profetto, perché siamo arrivati a questi livelli, l'abbiamo messo in mano il privato, cosa che a me non fa assolutamente schifo, tanto per derla molto chiaramente, se i soldi pubblici non ci sono più è giusto che arrivi il privato, ma non il privato ad ogni costo, non il privato laddove c'era una soluzione istituzionale che comunque si era accettata da tutti, da tutti i principali attori istituzionali, quindi insomma non è che si debba fare per forza, la vogliamo perché l'economia ce la richiede a gran voce, l'economia e anche il sociale, perché poi alla fine senza uno sviluppo economico anche lo Stato sociale sicuramente continua in questa crisi profonda che purtroppo attraversiamo, però è chiaro che non è che va fatta a ogni costo, vogliamo discuterla, ci sono i comitati, può darsi che ce ne siano altri, ma io credo che il primato delle istituzioni sia prima di tutto, quindi cercare una soluzione condivisa tra tutti i territori e farla la svelta perché è del tutto evidente che la guenza non può più aspettare un investimento di mille milioni di vecchie lire e lì fermo e quindi va completata assolutamente. Brevemente, lei mi insegna la politica e mediazione, su cosa siete disposti a cedere, su cosa non siete disposti a cedere? Guarda, è molto dura perché una volta rimesso a disposizione tutto il territorio e trovato una soluzione a nostro avviso col minore impatto possibile che soddisfava sviluppo economico ripeto e salvaguardia di una zona comunque sia fortemente antropizzata che va in pochi chilometri, quindi diciamo che era abbastanza certosina la scelta del passaggio laddove impattasse di meno, quindi francamente diventa sicuramente difficile, però ancora siamo all'ipotesi, nel senso che c'è un rigo su una carta che vorrebbe dire per San Giustino una muraglia tra San Giustino e le frazioni Selci-Lama, vorrebbe dire attraversare territori di agricoltura pregiata, vorrebbe dire da quello che si è capito passare vicino ai scavi di Colle Plinio che sono, ricordo, il sito più importante a livello mondiale per lo studio dell'agricoltura antica e vorrebbe dire passare per la vallata di Parnacciano-Renzetti che fino a prima della proposta era impercorribile, non perché lo dicevo io, ma perché lo diceva il codice della strada a livello europeo che da Selci-Lama alla Galleria della Guenza abbiamo una pendenza superiore al 5% che è vietata dalle norme europee, quindi questo dovranno quantomeno le questioni tecniche dovranno essere spiegate in maniera adeguata.